Ciao bellezza e bentornati sul mio canale Veritas Genesis e Genesis Nirvana 2023. Anche questo video ha questa modalità, perché? Perché normalmente il mio spazio di lavoro è libero, invece ci sono i bambini, ci sono i rumori, ci sono interferenze, quindi sento di non poter offrire una qualità decente per far passare il messaggio che invece è importante. Poi i miei video non devono essere per forza guardati, possono essere anche soltanto ascoltati. Voglio fare con voi una riflessione e degli esempi concreti partendo da questo aforisma, questa massima kantiana. Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Tratta dalla critica della ragion pratica di Kant, fa parte delle tre critiche, una la critica della ragion pura e l'altra la critica del giudizio. Ok, ma se la nostra società ha apertamente rifiutato ogni vincolo morale, prima o poi diciamo l'abisso chiama l'abisso, cioè prima o poi toccheremo il fondo, no? Ma sorpresa il fondo non c'è, non c'è limite all'abisso nel quale può sprofondare l'uomo. Io lo so che a costo uno ha voglia di leggerezza, di belle notizie, ma le cose succedono, ok? Mi riferisco, molti già avrete capito, all'infermiera che ha ucciso sette neonati, probabilmente sono più di cento comunque, e il branco che ha brutalizzato una ragazza. Vi risparmi i miei commenti, i messaggi, postami, perché tanto li avrete già sentiti mille volte. Ma uno di questi è arrivato al punto di dire, mi sono schifato un poco. E va bene, quindi questo è il mondo attuale? Questa è la nostra società? Il mondo civile? Il mondo democratico in cui viviamo? Io direi di sì, anzi direi che questa è la modernità. Questo è il mondo moderno. Stiamo parlando di legge morale naturale. Appunto, ho tirato fuori quest'aforisma di Kant. Ma la modernità, che è quel sistema filosofico di cui oggi vediamo il compimento, si basa proprio sulla negazione della legge morale naturale. Bacon e Francis Bacon e il suo empirismo chiamavano le leggi morali e religiose idola. Voltaire nell'illuminismo le chiamava addirittura superstizioni. Quindi noi da sempre ci vogliamo liberare, perlomeno dall'illuminismo, di queste leggi morali. La modernità nasce e cresce nel rifiuto della legge morale naturale. Il mondo in cui viviamo dice, in sostanza, ciascuno vive come crede, come vuole. Ossia, non esiste una legge morale naturale che mi dice, questo è giusto, questo è sbagliato. In poche parole, la coscienza. Ognuno è libero di vivere a suo piacimento. Tutto bello, no? Sembrerebbe. Libertà, quindi, dall'oppressione della moralità, da questi bigotti. Il bigottismo, ma basta, con questo moralismo. O addirittura, è la mia preferita, queste leggi inventate dai preti, per controllare le masse, per incatenare il popolo, per rimitarne le libertà. Nessuna autorità morale o religiosa ha il diritto di intromettersi nelle libere contrattazioni tra individui consenzienti. Questa è la modernità, questo è il liberalismo, anche il mio corpo è mio, lo gestisco io, eccetera, eccetera. E altri mille slogan, ok? Piccolo particolare. La legge morale naturale, che è appunto naturale, quindi naturalmente presente dentro di me, a meno che io non sono desensibilizzato fino alla mia radice, tanto da non avere più una coscienza, La legge morale naturale ha come conseguenza la difesa del più debole. Se la rifiutiamo, vige la legge del più forte, punto. Come disse il caro Darwin, quanto si piace Darwin, l'evoluzionismo, ma ce lo portiamo dietro da secoli, pensate, quanto siamo avanti. Lo fanno anche gli animali, quindi è naturale, no? Tutto ciò mi fa pensare al più lucido e obiettivo degli illuministi che sia mai esistito, ossia il marchese de Saad e buon divertimento con le sue opere, quanto mai attuali. Ok? Volevo farvi a questo proposito un bellissimo esempio di modernità. Il Canada, che bello il Canada, è simbolo dell'eutanasia dell'Occidente. E' inutile che diciamo noi siamo in Italia, non ci riguarda, siamo tutti per mano. Ok? Cade uno, fa cadere tutti. Ok? Sotto la guida di Trudeau, il Canada liberale sta diventando sempre più antivita e totalitario. Ok? C'è una progressiva estensione dell'eutanasia di impronta, marcatamente, eugenetica. Che cos'è l'eugenetica? C'è il perfezionare la razza, la purificazione della razza. Soltanto i più forti sopravvivono, soltanto quelli che hanno questa genetica superiore sopravvivono. Quindi no ai disabili, no ai malati mentali, no agli anziani, eccetera, eccetera. Ok? Non vi ricorda qualcosa? Eh? Questa eugenetica? Da dove viene? Va bene, va bene, comunque guardate che bell'uomo Trudeau. È proprio da copertina, ma li fanno apposta, eh, questi qua. Da copertina. Ricordo la morte del suo fratello più giovane che mi segue su Instagram, se lo ricorda quel video perché è scioccante. Comunque sia, mi raccomando seguitemi su Instagram, GenesisNirvana7. Suo fratello è morto durante una valanga. Allora, diciamo, questo lo metto lì. Comunque sia, oltre a una impennata dell'eutanasia, cioè del suicidio di Stato, morte assistita, dolce morte, chiamatela come volete, si è arrivati ad imporre la rieducazione. In questo caso a Jordan Peterson, il dottor Jordan Peterson, che magari molti di voi conoscono. Me lo auguro perché è un grande intellettuale, un grande pensatore, una mente geniale. Per le sue idee però, un attimo, voglio arrivare piano piano. Allora, Trudeau è in carica dal 2015, guardate che bell'uomo lì. Allora, e sta dimostrando al mondo intero la terribile eutanasia stessa della democrazia liberale occidentale, proprio del nostro prototipo di vita, una volta che si sradicano proprio letteralmente, si bruciano le sue radici cristiane. Il Canada, infatti, prende decisioni sempre più totalitarie e questa eutanasia eugenetica, chiamiamola col suo nome, è praticamente illimitata. O va verso quella direzione, che bell'uomo lì, ci sono tantissime foto online del suo fisico, di lui come sportivo, ok? E altre cose, io mi sono attenuta alla figura più istituzionale di quest'uomo. Quindi, il Canada propone, più che propone, impone per chiunque non si omologhi al pensiero unico del potere culturale, politico dominante, la rieducazione, ok? L'eutanasia, però, in Canada, non viene chiamata dolce morte, suicidi assistito, ah, guardate anche questa, quanto mi piace questa foto. Ok? Ecco, Trudeau, ovviamente, come sapete, grande supporter del Pride, guardate che foto da copertina, fantastico. Questo primo presidente a prendere parte al Pride, al Pride di Toronto. Che bell'uomo! Ok, in Canada, l'eutanasia si chiama MAID, M-A-I-D. Che ironia, perché MAID significa, diciamo, fanciulla, ragazza. E sta per Medical Assistance in Dying, ok? Qua nello specifico c'è l'approvazione della legge, chi è eleggibile, ok? Del Dipartimento di Giustizia del Canada. Ok? Medical Assistance in Dying. Proposed changes to Medical Assistance in Dying in Canada would reduce suffering. Ridurrà la sofferenza. Supporterà una maggiore autonomia e libertà di scelta. Suona benissimo. Ok? E per quanto riguarda i numeri della MAID, quindi della Medical Assistance in Dying, si è passati da 0 nel 2016 a più di 10.000 morti. Nel 2021, 13.500 nel 2022 e una crescita stimata per l'anno corrente del più 34%. Quindi possiamo anche aspettarci che questo 13.500 salga di buone 3-4.000 unità, ok? Guardate l'immagine. Qui si tratta di morire, di morte, ok? E non sono solo i malati terminali o le persone nelle cure palliative o nella terapia del dolore ad essere spinti nelle braccia della morte, ok? Guardate, che bello slogan, ma sono morte anche persone che avevano perso l'udito, ad esempio persone sole, persone che avevano un disagio psicologico, ma anche carcerati poveri e donatori volontari di organi, ok? E' proprio normalizzata come un'opzione medica accessibile a tutti e viene promossa anche per persone anoressiche e bambini che non sono necessariamente malati terminali, ok? Anche qua, guardate l'immagine, noi ti vogliamo bene e ti aiutiamo con una punturina a far smettere il tuo cuore di battere. Questo è stato proposto in un ospizio e un centro per cure palliative, addirittura c'è stato un pranzo e un webinar, ok? Conversazioni circa la MAID, ok? Nella British Columbia Hospice Palliative Care Association, ok? Quindi questo liberalismo che non ha mai fine, è insaziabile, che ha convinto gli uomini a disporre del proprio corpo come meglio credono, anzi, è lo Stato, vedete queste due mani femminili, secondo me rappresentano lo Stato. Questo è lo Stato che ti sprona alla morte come miglior prova di essere un buon cittadino, un bravo cittadino che fa risparmiare soldi alla società, alla sanità, togliendosi di mezzo. Addirittura è un gesto di carità verso i familiari che non sono condannati a questo calvario delle visite, del vedere un caro che si spegne, della sofferenza, verso la comunità. Quindi lo Stato che spinge alla morte, i cittadini deboli, incrementa il proprio potere assolutista e illiberale, ok? Anoressica, 47 anni, vuole morire e il Canada presto la accontenterà. Ecco, questi sono i volti così rassicuranti del MAID, il futuro del MAID in Canada, looking forward, guardiamo avanti, no? Chi altro includiamo in questa lista di persone eleggibili per il suicidio assistito, con queste belle faccine sorridenti, molto belle. Ok, ora vi parlo della censura che ha colpito recentemente, anche proprio negli ultimissimi giorni, lo psicologo e ex professore universitario Jordan Peterson, che molti di voi spero conoscete già, altrimenti conoscetelo, a mia opinione. È stato condannato dall'Ontario College of Psychologists e dalla Corte dell'Ontario a sottoporsi ad un programma di formazione rieducativa. La ragione? I suoi contenuti, le sue idee, i suoi post sui social, i suoi video, i suoi video su YouTube, le sue conferenze, le risposte che dà ai giornalisti, i megafoni del potere, quando lo invitano nei programmi. Ok? Non risponde secondo il copione, ma risponde quello che pensa. Ok? E in sostanza Jordan Peterson propone la necessità dei valori cristiani, la libertà di parola, la libertà di espressione, combatte il pensiero unico, combatte la falsa dittatoriale ideologia del gender, anche l'allarmismo climatico, ok? Gli abusi medici che sono stati fatti in questi ultimi anni sui minori, in favore della menzogna sul cambio di sesso, come risoluzione a tutti i problemi dell'adolescenza. letteralmente una cosa da macellagli, una cosa sbagliata, sbagliata a livello di Auschwitz, a livello di campi di concentramento. Ok? La menzogna sul cambiamento di sesso. Tutto ciò è molto molesto, non piace al pensiero unico, proprio per niente, perché è un pensatore. Geniale, colto, pieno di esperienza, ok? E per evitare il ritiro della sua licenza professionale come psicologo dovrebbe sottoporsi a un generico corso di rieducazione in stile comunista sovietico-cinese, per dirla tutta. Ok? Queste sono su YouTube, delle interviste a una ragazza che è detransitioned, quindi è passata, prima era passata da ragazza a ragazzo, poi è voluta tornare ragazza, cioè si è ripresa la sua identità. Ok? Anche questo è molto scomodo, parla contro la pupazza qui, no? Del cambiamento climatico, come menzogna, ok? L'ideologia del genere, soprattutto. Qua vedete un po' del suo curriculum, tra virgolette, no? Per farvi capire che questa è una persona che capisce, non è il primo co, eccetera, eccetera. Comunque, questa rieducazione stile comunista sovietico-cinese è per, e cito, rivedere, riflettere, migliorare la sua professionalità nelle dichiarazioni pubbliche, in un programma di coaching di sei mesi. Nei mesi scorsi Peterson ha chiesto un riesame giudiziario, ma il 23 agosto, quindi pochi giorni fa, la Corte Divisionale dell'Ontario ha rispinto la sua richiesta e ha confermato la sentenza. Il 24 agosto è seguita una dichiarazione pubblica di Jordan Peterson di non voler accettare la decisione, né di voler fare un passo indietro su quelli che sono i suoi principi, le sue idee, piuttosto preferisce, a malincuore, perdere la licenza e denuncia però, allo stesso tempo, la trasformazione dello Stato canadese, come è cambiato in un regime totalitario e repressivo, ok? In Canada, come nel resto dell'Occidente, lo ripeto, siamo tutti per mano in questo, no? E questa, la globalizzazione, viene abolito Dio, viene abolito il cristianesimo e la tirannia della libertà assoluta si trasforma in eutanasia della stessa libertà. Volevo farvi vedere un video su Trudeau, così per chiudere. Si circonda di bella gente, eh? Ok, ecco chi ci governa, ok? Chi prende le decisioni e chi può imporre a una persona come Jordan Peterson un programma rieducativo. Grazie per essere stati con me, ci vediamo prestissimo con altri video. Baci da noi.